Prego eccellenza Un augurio anche a lei A tutta la famiglia E sempre presente su tutti i territori Io sono sicuro Meloci è rappresentante Della collettività Per dire grazie a questi servitori Dello Stato Che quotidianamente Mettono a rischio la propria vita Per salvarne altre Ma soprattutto anche per fare sicurezza Il mare Sicuramente eccellenza Io ormai c'è questa tradizione Che prima definivo All'ammiraglio Tazia Come il compleanno Che si ripete ogni anno E che ormai ci vede sempre vicini In questa missione Chiamiamola così A tutela dell'interesse collettivo E della sicurezza dei cittadini E come dicevo prima Eccellenza Lei non ci fa mai mancare Il suo apporto E di questo la ringraziamo tutti La sentiamo sempre Molto vicina a noi In ogni momento Grazie